Dottore Battista, una situazione paradossale in cui è ripiombata a suo malgrado la clinica a Malzoni da oggi stoppa ai ricoveri, qual è la situazione? La situazione è che i ricoveri sono stati bloccati con l'ordinanza sindacale e comunale senza nessun nuovo motivo rispetto ai precedenti. Tutte le procedure sono state attivate per dar seguito a quello che era stato concordato al tavolo del prefetto a febbraio. Il Tarra ha dato una sospensiva per dei motivi che sono gli stessi richiamati nella nuova ordinanza. I nostri illegali stanno provvedendo a dirimere questa matassa, a cercare di capire e di fare tutti gli atti per risolvere la questione. Ci scusiamo che i paesi sienti, però al nostro malgrado non sappiamo cosa possiamo fare oltre. Si procederà come si è proceduto tre mesi fa a febbraio, cioè si chiederà la sospensiva dell'ordinanza ante causa a Mal Tarra? Queste sono le procedure da fare, noi si attiviamo per fare tutto quello che dobbiamo fare. La procedura del Tarra dovrebbe dare entro qualche ora, spero, un parere per la sospensiva e poterci consentire di riaprire i ricoveri, di rimettere i ricoveri in clinica. Che cosa c'è dietro? Ma questo non lo so, non so che cosa c'è dietro, non so. L'unica cosa che so è che questa provincia sta pagando, non solo posso parlare da politico in questo momento, perché da direttore sanitario della struttura dobbiamo solamente subire e agire di conseguenza per quanto riguarda gli atti che dobbiamo fare. Se mi fanno una domanda dal punto di vista politico devo dire che questa provincia sta subendo attacchi concentrici da parte sia dello Stato sia della regione stessa, cioè regione campanica che non riesce a emergere, non riesce a muoversi, a restare in bandanata in quella che è la sua storia recente degli ultimi venti anni, dove continua invece di tentare di risolvere, di alzare il tenore di vita, invece di pensare alle cose importanti a proteggere i fiori all'occhiello, a potenziare attività, industria e tutto il resto, continua a restare in bandanata, a non fare niente, a peggiorare la situazione dello Stato dei cittadini, continua e invece di andare verso chi ci ha costretto a questa cosa, continua a rinviare in favore di un Napoli centrismo, di un buco nero che è il Napoli, continua a dare problemi alla provincia e Avellino è quello che subisce più di tutti gli attacchi di questa regione, perché tutto quello che c'è di buono stanno cercando di portarlo a Napoli, di portarlo fuori, non solo la sanità, ma basta guardare tutto quello che non va bene, diciamo che non è la parte certamente più elevata delle attività, vengono fatte da Avellino, noi portiamo via l'acqua, portiamo via la sanità, portiamo via le intelligenze che ce ne stanno tante e importiamo la spazzatura, importiamo delinquenza, importiamo tutto quello che di peggio c'è nella regione e in Italia. Per quanto riguarda l'ente comune di Avellino, in una notte il sindaco Foti ha detto di non sapere nulla, ma la determina dirigenziale sarà al 30 maggio, è plausibile questa non conoscenza da parte del sindaco Foti? Questo è un problema suo, non è un problema che posso... Io da consigliere comunale devo dire che mi sembra assurdo, oltretutto se mi fai domanda come consigliere comunale devo dire che non è possibile che una dirigente del comune vada contro quella che è stata una presa d'atto dell'intero consiglio comunale che aveva fatto una delibera per la clinica Malzona a suo tempo, prima l'ha aggiunta e poi i dirigenti ignorano o fanno finta di saltare piepari quello che ha fatto il consiglio comunale e questo è un discorso. Purtroppo la macchina comunale è quella che il sindaco se non riesce a gestirla potrebbe prendere anche altre decisioni, dovrebbe fare delle cose, però ho un problema suo, non un problema che può riguardare me. Mi dispiace come cittadino di dover restare in questa città. Grazie a tutti.